Perché va a premiare non solo i lavoratori, non solo gli imprenditori di tutti i settori, di tutte le categorie, di tutte le località dei nostri territori che si sono distinti, ma anche quelle che sono le componenti della società più vive all'interno del nostro territorio. Quindi parliamo dello sport, parliamo della cultura, parliamo delle relazioni internazionali, parliamo dell'università, della medicina e quant'altro. Mi piace molto, da Pozzo premia Pozzo, ma al di là di questa battuta il significato della realtà sportiva dell'Udinese per noi è importantissima, ma non solo come sport, ma anche come riconoscibilità del territorio. Mi ricordo che in una missione in Sudafrica, parlando col tassista, mi chiedeva da dove viene l'Italia, il Friuli non sapeva niente, e poi mi dice Udinese, è subito accolto il segno perché guardava le partite della nostra nazionale, quindi il punto di riferimento della squadra del calcio diventa elemento di riconoscibilità e di promozione di un territorio. Per mia passione sportiva, io sono molto stato nel passato legato al basket, ho giocato a basket, ma devo dire che l'entusiasmo che coinvolge migliaia e migliaia di appassionati per la nostra squadra del cuore, che è l'Udinese, è tanto, tanto forte. E' un augurio che quest'anno le soddisfazioni siano decisamente superiori a quello scorso anno e mi sembra che già l'inizio è stato promettente, ma anche se si può fare di più.